la fotografia perché mi sei dimmi cosa vuoi dire? vuoi dire qualche cosa Peppe al mondo? vogliamo che stiamo bene e salutiamo quel grande lavoratore di Maurizio di Turri che ha doppietto cosa ci ha fatto? spera di fatica spera di fatica spera di fatica si 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 non ci vuole fatica non ci vuole fatica e c'è il cerdino e c'è quando arriva il whatsapp non è sempre non è sempre non è sempre non è sempre ora te la fai vedere Peppe il filmato vedi aspetta faccio il primo piano